Quali sono le novità in materia di legge di bilancio 2024? Esaminiamo le principali misure. In materia previdenziale sicuramente il trattamento pensionistico minimo, il trattamento pensionistico per i lavoratori con il sistema contributivo, il riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi, la rideterminazione dell'indicizzazione delle pensioni per l'anno 2024, l'ape sociale, opzione donna, poi ci sono invece le misure di sostegno al reddito, quindi gli interventi per il taglio al cuneo fiscale, l'esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo, nonché i fringe benefit, poi il welfare aziendale, quindi detassazione dei premi di risultato, la decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con i figli, poi abbiamo ancora la decontribuzione per l'assunzione di donne vittime di violenza, di cui già ho pubblicato un brevissimo video, la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di struttura e turistico alberghiere, finanziamento dei percorsi formativi, il rifinanziamento del fondo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale pubblico per il trianno 2022-2024, i congedi parentali e poi ci sono altre misure in favore delle imprese come ad esempio la proroga della CIGS e la mobilità enderoga nelle aree di crisi industriale complessa, quindi questo è un video semplicemente per elencarvi quelle che sono le principali novità in materia di previdenza, di congedi parentali, di sostegno a reddito e di welfare aziendale contenute nella nuova legge di bilancio.